In occasione della giornata mondiale di prevenzione del diabete ad Agrigento e Lions Club International, in collaborazione tra gli altri con il Leo Clebs, il Comune, l'Azienda Sanitaria e l'Ordine dei Medici di Agrigento e l'Associazione Ama Diab, ha organizzato nello spazio Temnos della Chiesa di San Pietro un seminario sul tema Le nuove frontiere sulla ricerca per la cura del diabete. Sono socio direttivo dell'Associazione Ama Diab, Associazione Diabetici Agrigentini che dà sostegno e supporto alle famiglie con bambini con diabete tipo 1, nonché anche alle persone affette da diabete tipo 2. La giornata di oggi è all'insegna della giornata mondiale del diabete, questa importante manifestazione di volontariato in campo sanitario la più importante, che si celebra appunto il 14 di novembre volta a sensibilizzare la collettività ma anche il mondo sanitario sulla tematica del diabete, perché ad oggi purtroppo il diabete è una patologia cronica dai numeri esorbitanti, si parla di vera e propria pandemia del diabete ed è importante una corretta informatizzazione, una corretta sensibilizzazione alla collettività sulla tematica del diabete per poter affrontare meglio il vissuto e convivere nel migliore dei modi con questa patologia cronica. Noi abbiamo un nuovo modo di curare il diabete, nel senso che dopo tanti anni che abbiamo avuto farmaci per il diabete tipo 2 che limitavano molto l'aggressività della terapia in quanto questi farmaci davano ipoglicemia, oggi c'è una nuova classe di farmaci che non danno ipoglicemia e quindi permettono una cura più aggressiva nei confronti dell'iperglicemia e questo ci permette di ottenere gli obiettivi glicemici prefissati senza correre il rischio dell'ipoglicemia, perché il vero problema del diabete è prevenire le complicanze croniche al livello di cuore, occhio, rena e cervello, ma anche di prevenire l'ipoglicemia che può essere un'ipoglicemia grave, severa e che può essere anche causa di morte. Dall'altra parte, questo per il diabete tipo 2, per il diabete tipo 1 invece oggi abbiamo la possibilità anche di avere nuovi microinfusori che sono capaci anche di poter regolare l'insulinemia basale in funzione delle glicemie degli ultimi 5 minuti e questo regolare la basale significa ridurre il rischio di ipoglicemia severa. È un periodo importante, si parla di prevenzione mondiale del diabete, è il periodo in cui tutti pensano a questa patologia che interessa a livello italiano 2 milioni e 700 mila persone e il 33% di loro non lo sanno. Abbiamo voluto coniugare al seminario scientifico in cui persone esperte spiegano nuove metodi di prevenzione e di cura con tecnologie all'avanguardia, anche un sistema di vita salutare che è quello che aiuta poi tantissimo a prevenire la malattia e cioè il movimento, stare bene. Questo è stata per noi ovviamente un'occasione per promuovere una passeggiata stavolta nel centro storico di Agrigento, una passeggiata veloce ma dolce che consentirà anche di godere delle bellezze nostre anche inedite, di vicoli sperduti a cui noi agrigentini non siamo abituati assolutamente a godere. Quindi questa è stata un'occasione importante per noi Lions per dare un servizio utile alla scienza, al territorio e per valorizzare i nostri beni. L'abbiamo fatto in collaborazione con tanta associazione tra cui la passeggiata degli Dei che è un'associazione che si occupa proprio di escursione e di vivere il territorio con tantissimo movimento e tanta attività sportiva. Adesso in riferimento allo stesso convegno ci sono altre interviste. La zona 24 di Agrigento celebra la giornata del diabete con una importante manifestazione al centro Tevenos, organizzato con le associazioni dei diabetici, dei medici diabetici, con l'Asri di Agrigento, col patrocinio del comune di Agrigento. I tre club Agrigento Ost, Agrigento Chiaramonte e Aragona Zolfare si sono tutti impegnati per dare un giusto rilievo e un'azione positiva sulla società in merito a questo grosso problema del diabete che l'Alliance Club International ha sposato e che intende portare avanti in una politica di informazione e di sensibilizzazione perché i numeri che si stanno sviluppando attorno al diabete sono dei numeri da pandemia e abbiamo deciso di aumentare l'informazione e la sensibilizzazione su questo tema. Siamo veramente contenti di aver suscitato un forte interesse nella cittadinanza e speriamo di continuare ancora in questa direzione. Oggi i Lions, tre club insieme, tutta la zona 24, insieme ad altre associazioni, in particolare mi piace segnalare la Madiab, l'associazione dei diabetici, assieme alla associazione passeggeri degli dei escursionisti, propongono una giornata di grande riflessione sul tema molto delicato che è quello della patologia del diabete, che è una patologia subito la che molti neanche sanno di avere. Allora i Lions decidono di fare un seminario prima in cui presentano alcune nuove tecnologie all'avanguardia con professori e nominari in materia e poi concludono dopo il seminario con una passeggiata nel centro storico di Agrigento. Quindi prima hanno fatto una passeggiata nella valle dei tempi all'alba, adesso promuovono un'attività di salutare che è la passeggiata che è ben sicconica con la prevenzione del diabete e la promuovono questa volta al centro storico di Agrigento in posti a volte poco frequentati da noi stessi agrigentini. Quindi ecco che il messaggio è completo e i Lions fanno un altro servizio importante alla collettività di Agrigento promuovendo sia una sana abitudine sia il territorio stesso.